Con l'apertura dei varchi di accesso ai due torrioni, Spinella e Brava, si sono concluse le operazioni preliminari del progetto di restauro delle torri aragonesi di Via Marina. Una prima fase di interventi ha visto la bonifica del fossato e delle aree erbose circostanti e quindi si procede al recupero degli ambienti svelati delle torri che tornano alla luce ripuliti da sporcizia e degrado in cui versavano da tempo. I lavori di restauro per un costo di 600 mila euro prenderanno il Via entro l'anno dopo le autorizzazioni della sovrintendenza. L'intervento è uno dei più consistenti del progetto Monumentando lanciato dal Comune per la riqualificazione di 27 monumenti cittadini. È finanziato da sponsor privati e sarà a costo zero per l'amministrazione. Grazie ai lavori di sponsorizzazione al bando che ha lanciato il Comune di Napoli abbiamo quattro cantieri in questo momento aperti in città, cinque monumenti già sono stati riconsegnati alla cittadinanza e in particolar modo il progetto delle torri aragonesi e delle mura aragonesi è un progetto molto complesso che prevede il recupero, il restauro e poi la piena fruizione di non soltanto delle parti delle murazioni aragonesi quanto anche di due torri della parte pubblica, della parte verde e dei giardini che sono lì contenuti ma soprattutto il recupero di luoghi della memoria della città di Napoli. Le due antiche torri dette la Brava e la Spinella risalgono agli inizi del quattordicesimo secolo e facevano parte del demolito castello del Carmine che insieme alla cinta aragonese doveva proteggere la città dalle minacce provenienti da sud-est. Dopo la costruzione del forte di Viliena nella prima metà del diciottesimo secolo il castello del Carmine diventò un presidio militare e una prigione. Sono stati effettuati tutti i lavori propedeutici al cantiere vero e proprio, non solo era necessario aprire in sito le parti che erano state tompagnate e chiuse alla fruizione, sono partite le bonifiche che da 40 anni non venivano effettuate in quell'area, il progetto è stato, le indagini sono state condotte in sito, sono stati effettuati i saggi, è stato redatto il progetto che poi è stato consegnato alla soprintendenza, ora attenderemo anche il parere e l'autorizzazione della soprintendenza e subito dopo partiranno i lavori che hanno una durata di 120 giorni.